La numero 14, Alexandra che porta a Sasha da l'attacco dei giganti! Alexandra, ma grazie! Io intanto canto la sigla bellissima dell'attacco dei giganti! Perché stai là? Vieni qua cara, non ti vergognare, fatti rimirare! Bellissima! Il giudice di domande? No, giudice di domande? Tutto cristallino, benissimo, conoscete la serie? Tutto perfetto! Grazie Alexandra! Grazie mille! Bravissima!